Siamo in compagnia di un poker pro, Luigi Pignataro, ha detto Gigi o Giggetto a Roma è conosciutissimo. Allora Gigi, intanto benvenuto qui alle BUMB. Grazie, ciao a tutti ragazzi. Come stanno andando queste BUMBISOP, 6MAX, quante fisci hai? Siamo usciti a forse 50, 80, infatti siamo un po' di galoppo. Vabbè però siamo ancora sopra l'everage giusto? Sì, io lo guardo proprio l'everage però sì. Ascolta Gigi, questo 6MAX io so che tu giochi prevalentemente 6MAX giusto? Sì, adoro gli MTT 6MAX. E come ti sembra questa struttura? Sì, quasi ti uccide, è bella, è lentissima. Io adoro anche turba però questa è bella. Non ricordiamo tutte le vittorie che hai fatto, tutti gli ITM che hai fatto in carriera ma ricordiamo soprattutto il primo premio a San Marino nel 2010. Sì, è stato il più importante. Per un giocatore italiano vincere il titolo italiano è la cosa che ti ha pagato di più. Bene Gigi, un'ultima domanda, poi ti lascio andare a cena. Siamo appena andati in pausa a cena qui con il torneo. Obiettivi per questo 6MAX? Ho sentito prima un giocatore che diceva l'importante è andare in day money. Bah, per me non è proprio così. Comunque... Tu quale preferisci? Io sono soddisfatto solo quando faccio primo. Ok, allora in bocca al lupo e speriamo di vederti a tavolo finale. Crepi, grazie. Grazie a tutti.